Non c'è niente di più bello secondo me nel 2024 di vedere un'auto segmento A leggera, interessante, ben dotata Vabbè, di chi sto parlando? Ve lo dico subito Sto parlando proprio di Kia Picanto, la nuova arrivata segmento A, il nuovo restyling per i 20 anni Perché si tratta di un restyling? Perché la piattaforma rimane invariata Una vettura che davvero ci sta stupendo Iniziamo subito dalle caratteristiche estetiche Troviamo un nuovo frontale molto, molto aggressivo nel design Con fari finalmente full LED Non stiamo parlando dell'allestimento più alto Perché in questo caso l'allestimento si chiama Anniversary A celebrare i 20 anni del modello Picanto E appunto, come dicevamo, un faro full LED Che ricorda lo stilema formale che sta applicando Kia Nei suoi ultimi restyling, nei suoi ultimi modelli Con questo faro AT molto bello Quindi sulla linea delle V9, come dicevamo, anche per la Sorento Griglie in piano black molto interessanti E ci dicevano che l'allestimento GT Line ha invece qua il fascione illuminato Quindi diventa un cost to cost la luce di posizione Griglione che è parzialmente coperto, chiuso Proprio perché deve andare a raffreddare Il 1000 non turbo ma aspirato Benzina da 63 cavalli Sembrano pochi lo so ma ne parleremo poi meglio nella fase di guida Ci spostiamo sul laterale Una vettura compattissima 3,59 metri di lunghezza Per un passo da 2400 mm Quindi 2,40 metri Un passo che stupisce perché riesce ad avere un buon compromesso Tra posti posteriori e bagagliaio Per quanto riguarda il design al posteriore Abbiamo vetri privacy e un fascione luminoso Sempre LED Interrotto solamente nella zona centrale Che ci nasconde, oltre all'apertura del baule Anche una retrocamera molto comoda in città Perché è proprio qua che punta la Kia Picanto Alla città è una segmento A di dimensioni particolarmente compatte Andiamo subito ad aprire il portellone Che ci nasconde 250 circa litri di capacità a sedili alzati Mentre arriviamo intorno ai 1000 a sedili completamente abbattuti Quindi anche una buona capacità che arriva a superare quella Per esempio della Panda che siamo abituati a vedere Abbiamo un profondo pozzetto posteriore e anche poco gradino Quindi molto intelligente come situazione Ma ci spostiamo subito sugli interni Interni che sicuramente non brillano per materiali eccezionali Ma, vedete, appunto plastiche molto dure Su tutto il percorso della portiera Perlomeno al posteriore Con alza cristalli però elettrici Quindi, a differenza ad esempio della Hyundai i10 N-Line Che abbiamo visto in prova In questo caso li abbiamo Abbiamo impostato il sedile su un'altezza circa di 1,70 m E vediamo che anche grazie a questo scavo All'interno del sedile Abbiamo particolare spazio per le gambe E si riesce a stare molto bene Qui invece settato sulla mia posizione Circa 1,90 m Lo spazio inizia a essere poco Si potrebbe andare un pochettino più avanti Ma lo spazio inizia a essere poco Diciamo che 4 passeggeri Nonostante l'omologazione sia per 5 4 passeggeri ci stanno molto molto comodi Devo dire che mi sta stupendo proprio per lo spazio Infatti mi calo in abitacolo E nonostante le mie dimensioni non siano compatte Riesco a stare sufficientemente comodo Ho spazio per le ginocchia Senza problemi per la testa Lo spazio diventa un po' poco Ma come dico sempre Sono un po' fuori dalle taglie normali Essendo comunque alto 1,90 m Devo dire che un trasferimento Anche di un'oretta Lo riesco a fare tranquillamente Andando a chiudere la portiera Non è neanche uno spazio claustrofobico Avendo per l'appunto il cielo di colore chiaro Si sta molto bene Ed è sufficientemente aperto come spazio Non mi trovo per niente male Ne approfitto per mostrarvi intanto La zona anteriore Come vedete abbiamo un cambio manuale 5 rapporti Tutte cose di cui parleremo poi durante la guida E il volante multifunzione Con i tasti a destra Per regolare le impostazioni generali Del cruise control E delle schermate E a sinistra invece Per l'impianto multimediale Da 8 pollici Che vediamo lì davanti Ma ve ne parlo spostandomi Nei sedili anteriori Sedili anteriori Dove lo spazio comunque Anche per una persona Della mia statura È abbondante Riesco a stare davvero decisamente comodo Pedaliera anche molto morbida Una frizione morbidissima Un pedale del freno Ben servo assistito Quindi facile da premere Una buona frenata Nonostante l'impianto sia piccolo Ma appunto la macchina è molto leggera Ma di queste cose ne parleremo appunto Durante la prova su strada E abbiamo di fronte a noi un display Che ricorda esattamente Quello della Hyundai i10 Condividendo comunque la piattaforma Dove l'unica parte personalizzabile È questo piccolo display LCD Davanti a noi Non male Non dispiace È carino E qui appunto l'infotainment Da 8 pollici Con navigatore integrato Comandi rapidi Per la navigazione Nulla di nuovo Nulla di sorprendente Ma decisamente fluido Veloce ed essenziale Quindi Chapeau Perché secondo me Un sistema del genere Può funzionare Molto molto bene Non distrae particolarmente Alla guida Ci si trova bene Ci si trova comodi Quindi apprezzato Sotto questo punto di vista Mi vedete Toccare il climatizzatore Che spengo al volo Le ventole Climatizzatore Che non è automatic Con aria condizionata Tradizionale Quello che siamo abituati a vedere E al di sotto Troviamo una presa 12V Una presa USB Di tipo tradizionale Di tipo A E una di tipo C Carina anche la soluzione Del porta bibite Che per guadagnare Un pochettino più di spazio È a scomparsa E all'occorrenza Può essere aperto Per sfruttare meglio Gli spazi Cambio manuale Come dicevamo 5 rapporti Con una buona corsa Si comporta molto bene Un cambio da usare in città Molto molto semplice E gradevole I pannelli porta Anche qua all'anteriore Abbiamo una prevalenza Anzi una quasi totalità Di plastiche rigide Che per il segmento Ed il prezzo A cui vi è proposta Di sicuro Non è un problema Ma adesso Io vado a guidarla E a raccontarvi un po' Come si comporta su strada Ed eccoci dietro al volante Della Kia Bicanto Come dicevamo Allestimento anniversary Quindi non quello più sportivo Con un motore 1.3 cilindri 63 cavalli C'è opzionale Anche il 1.2 4 cilindri 79 cavalli Quindi siamo sull'ottantina di cavalli Però devo dire Che questo 3 cilindri 1000 Nonostante una cavalleria Relativamente bassa Quindi con costi di gestione Molto basse Specifico Che entrambi i motori Si trovano ad aspirazione naturale E non sovralimentati Molto molto interessante Perché si sposta bene Noi la stiamo provando oggi Su stradini in salita E comunque Riesce ad arrampicarsi molto bene È un motore quasi frizzantino Adesso non andiamo a dire Che sia una vettura sportiva Perché anche Come setting Delle sospensioni Quindi taratura Della sospensione È molto morbida Nonostante Circa da 16 Su stralla 45 Rimane molto molto morbido E piacevole Lo sterzo È leggerissimo Adatto proprio Ad una city car Perché di questo Vi stiamo parlando Però è gradevole La frenata è comunque Molto buona Quindi è una vettura Che dal punto di vista Della sicurezza Si sta comportando In maniera Egregia E anche a livello Di posizione di guida Non se la cava male Peccato non poter regolare In profondità Lo sterzo Quindi la posizione Del volante Nonostante questo Io trovo una posizione Di guida Estremamente confortevole E sarei pronto A viaggiarci Anche senza problemi Sempre appunto Parlando dal punto di vista La sicurezza Abbiamo come optional Il blind spot monitor All'interno Degli specchietti retrovisori Abbiamo il lane keeping assist Scusate Quindi il mantenimento Della corsia Anche se non Attivo al centro Ci mantiene All'interno della corsia Lavorando Sullo sterzo E abbiamo Un cruise control semplice Essendo in questo caso Cambio manuale Cambio manuale Semplicissimo Da utilizzare Una frenzione Leggerissima Davvero Non è per niente Fastidiosa Non ci si accorge Quasi di premerla Quindi gradevole Soprattutto nell'ottica Di una city car Da utilizzare Tutti i giorni Disponibile anche Un cambio robotizzato Sempre 5 rapporti Per entrambe le motorizzazioni Una vettura quindi Molto pratica Molto semplice Che Devo dire Come prima Come seconda Ma anche come terza auto Per una famiglia Magari grande Si comporta bene Questo anche perché Abbiamo attacchi isofix Al posteriore Che ci permettono di Alloggiare dei seggiolini Su entrambe le sedute posteriori Una vettura che Mi piacerebbe Avere sotto mano Per un po' più di tempo Per riuscire a dare Un parere sui consumi Appunto Sul lungo termine Ovviamente oggi Non parleremo di consumi Perché Potendo la provare Per poco In anteprima Poi in questo nostro caso Su strade In salita Di montagna Si va a sforzare Parecchio Il motore Si vanno a vedere Dei consumi Anche non perfetti 30 all'ora Sul solito dosso Come vedete Le sospensioni Non è il solito dosso Però 30 all'ora Sul un dosso E vediamo che le sospensioni Si comportano in maniera Decisamente egregia Una vettura Che ci fa ricordare L'essenza della city car Non troppi optional Non troppe cose Con cui litigare Un tablet comunque Da 8 pollici Quindi relativamente piccolo Di più sarebbe stato Addirittura scomodo Un display centrale Che non ci distrae Alla guida Andando a guardare Qualsiasi singolo dato Che ormai troviamo Su tutte le vetture Devo dire Studiata Per essere Una city car In maniera Davvero intelligente Un ottimo raggio Anche di sterzate Il che aiuta Assieme a delle dimensioni ridotte Ad esempio A parcheggiare in città Quindi Che festeggia i 20 anni Appunto Del modello Della city car Di segmento A Che è riuscita Secondo me In un progetto Molto molto intelligente Una macchina Che non punta Prestazioni eccezionali Che strizza l'occhio Ai giovani Con anche uno stile Sufficientemente Aggressivo Grintoso E un'ottima dotazione Di sicurezza Sia dal punto di vista Degli ADAS Che anche banalmente Dal punto di vista Di fare full LED Che nel 2024 Io ritengo Obbligatori Su qualsiasi vettura A partire Dall'allestimento Più base Una vettura Che parte di base Da 16.500 euro Che va a posizionarsi Secondo me Molto bene All'interno Della fascia Del segmento A Lo sappiamo Sembra un prezzo alto Come dico In tutti i video Ormai Il mercato di automobili È esploso Secondo me È un prezzo In cui ci si può Inserire All'interno del mercato In maniera Anche sufficientemente Competitiva Nel nostro caso Siamo Con questa edizione Anniversary Così come l'avete vista Oggi Intorno ai 17 Poco meno Di 18.000 Scusatemi Devo dire Che è un'ottima Alternativa Ma io voglio sapere Voi che cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti E vi ricordo Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati Su tutte le nostre pubblicazioni E di seguirci Su tutti i social Dove ogni giorno Pubblichiamo contenuti Molto interessanti Noi ci vediamo Al prossimo video Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo